Completiamo questo trucco che ho fatto con la nuova BB Cream SPF 30 della colorazione medium, ho tonalizzato un po' per fare leggerissimi chiari scuri con la terra medium e ho fatto questo trucco molto nude, leggerissimo, con una matita e la terra medium e anche il mascara epic. Partiamo subito con la matita. Prima di tutto ho fatto un infracigliare con la matita marrone proper, sono andata nella rima interna del mio occhio, faccio attenzione ragazze perché uso le lenti a contatto. L'infracigliare mi aiuta a dare una definizione al mio occhio molto molto delicato e molto leggero. In un modo un po' approssimativo vado a fare dei piccolissimi tratteggi, non tenete la matita così, così, tenetela lateralmente. Vado a fare dei piccolissimi tratteggi con la matita marrone proper che contiene olio di jojoba, quindi è facilmente sfumabile. Poi vado un po' qui sotto, solo in una parte finale, stop, contiene olio di jojoba, si sfuma benissimo appena messa e poi dopo non va via perché è anche fissante, resistente. Ok, vado un po' a sfumarla in questo modo, prendo un pennellino di precisione come questo più piccolo, prendo la terra medium, oppure se voi volete potete usare un ombretto, la vado a fissare in questo modo con la terra, anche sotto, trasferisco un po' di matita con la terra, in questo modo qua. Prendo un pennello di sfumatura, sempre con la terra, vado a fare un po' di ombreggiatura, con l'occhio aperto vado proprio sopra dove ho la palpebra carante, un colore, siccome la mia terra unique medium è opaca, mi consente anche di poter fare questo. Ok, come di qua. Abbondante mascara epic, abbondante. Partendo dalla radice. È un mascara curativo, cheratina, biotina, olio di argan. Di tanti altri attivi, non hanno le colle in nostre mascara, vado anche qua. Si può stratificare, quindi una volta applicati e asciugato il mascara, sentite le ciglia comunque ancora morbide. Ok, un po' di sfumatura in più. Stop, trucco leggerissimo nude. Sulle labbra ho messo uno di questi rossetti mini set, che sono da viaggio, come anche i mini set che ci sono dei lip gloss. E entrambi, anche loro, sono scontati nel mese di giugno. Una promozione speciale per i prodotti, diciamo, più usati d'estate, dedicati, che trovate nel mio shop online www.eltruccotifabella.com. Ah, le sopracciglia! Ho delineato le sopracciglia con un po' di mattitina, sempre proper, che è troppo scura da sola, e l'ho presa con un po' di terra medium. Ho fatto tutto con questi prodotti qua. Mi dimenticavo la cosa più importante, visto che io porto anche gli occhiali. E le sopracciglia sono fondamentali, ragazze. Mi ero dimenticata, la ciberbolina. Ok. Ho fatto la metà del viso in diretta live, oggi è venerdì, 8 giugno mi sembra, 9, no, venerdì 9 giugno ho fatto la diretta live, adesso pubblico questo video in una data diversa. Per completare, far vedere completamente finito il mio trucco. I prodotti che ho utilizzato li trovate nel mio sito www.eltruccotifabella.com Vi do un caloroso abbraccio, grazie per seguirmi. Rispondo più velocemente su WhatsApp. Un bacio a tutte, ciao! Wow! Wow!